C'è 105 e mi casa, metti a palla 105 e fai sentire che ci sei, tu ci sei, c'è 105 e mi casa È tornata a trovarci la Unziger, ciao Michelle Ciao Max, ciao ragazzi Come stai? Ah bene, quando sono qua con voi sono sto bene, scusa, ormai sono de casa Anche noi stiamo molto bene con te, te lo volevamo dire Ci piace anche guardarti in All Together Now, è passato Ax settimana scorsa Al quale abbiamo rubato qualche informazione, per esempio io che vengo dalla musica rap, dall'urban, dalla trap negli ultimi anni Non è che non mi sono accorto di quello che hai fatto È tutta colpa di Ax Ecco però volevo dirti che Ax dice ma sì ho avuto una colpa iniziale di un 10%, il restante 90% è colpa di Michelle È vero, è vero perché mi sono gasata come non so cosa, anche perché prima ho detto no ma io non ce la farò mai Anche perché questo, lo sai meglio di me, il rap è una roba sacra, non bisogna toccarlo Simo ma mi metti la canzone per favore Ale non puoi farmi fare sta cosa perché o la fai bene e lui fa chi l'ha detto che non la facciamo bene Certo Allora mi ha affiancato Pedar e abbiamo fatto Mischere Che bello Vabbè insomma parliamo di una cosa che quando è uscita è andata viral, cioè l'hanno vista tutti Hai sentito che parlo anche il tedesco perché a un certo punto Ale mi fa no vabbè ma tu devi fare come i gangster rapper quelli tedeschi Mi dava le frasi e io le traducevo Però ho capito una cosa Mi sono divertita un casino Ragazzi io ve lo dico, io voglio andare a fare i concerti con Ax Io glielo ho già detto, guarda aspettati che vengo a fare delle incursioni Senti ho capito una cosa ancora di più, che tu sei una che quando c'è da buttarsi lo fa bene, cioè sa buttarsi bene Ma io proprio sono una matta completa, cioè non me ne frega niente, io dico se uno deve farlo lo deve fare proprio così Eh si capisce, si capisce Infatti siamo andati a fare il video, visto che do a un certo punto delle pacche sul sedere alle tipe Quella lì, forse l'ha detto anche Ax, è proprio la scena culto No, è la scena in cui lui ha detto adesso me ne vado a casa perché mi sta sfuggendo di mano la situazione Ho detto scusami ragazzi, io devo fare un po' capito come è quel, cioè devo essere così, devo entrare nel personaggio Cosa ha detto tua figlia, Auri eh dico Allora Auri all'inizio non ci credeva, quando gli ho detto che facevo questa cosa fa mamma, cioè tu non ce la potrai mai fare Perché vabbè lei mi stima molto sotto tanti punti di vista però questo appunto era un ambito Poi conosce il genere Eh conosce il genere Poi oh l'ha sentito, mi fa mamma ma è credibile, è una figata E le piccole ormai si svegliano che fanno il dissing, capito? Bellissimo Con il ditino così Ho detto però non andate a scuola, non dite le parolacce perché dico spesso bitch Ogni tanto sono in macchina che le porto a scuola e c'è sole dietro che dice bitch Dico no, sole, no, no Queste da me sono gli effetti collaterali del video Però tanto a scuola non capiscono cosa vuole dire bitch Per ora no, per ora no, per ora no Mi è piaciuto molto e mi piace molto, non c'entra niente con il Together Now ma adesso ci arriviamo Il rapporto tra te e Auri che traspare dalle cose che fate insieme Lo volevo dire, molto bello Ma tu l'hai ancora conosciuta, avete lavorato anche insieme eccetera Auri è... vabbè lei è il mio angelo lo sa, noi abbiamo un rapporto pazzesco e poi adesso si ride tanto Perché mentre prima era proprio mamma figlia, mamma figlia e sono stata molto severa Come è giusto che sia È giusto che sia così perché le regole poi ti aiutano eccetera E comunque sono ancora mamma Però adesso, cioè uscire con lei, stare con lei Io faccio di quelle risate Nessuno riesce a farmi ridere come Auri Perché è una pirla, l'hai vista quante pirla Auri No ma si vede che è molto bello È bella l'energia che esce Arriviamo a All Together Now A proposito di energia La prima cosa, ma infatti lo dicevo anche Ax Che mi arriva dal programma È che sì, è divertente il programma È che tutti quelli lì dentro si divertono E quindi esce quell'energia lì È quello che volevamo E guarda questa è una cosa che non puoi scrivere e non puoi organizzare Infatti noi abbiamo proprio avuto Cioè la saudagi quando ci siamo salutati eccetera Perché il muro di questi cento esperti E lì io avevo una paura pazzesca Ho detto ma come faccio io a farli divertire Far sì che loro abbiano proprio questa sensazione di squadra Certo O non uno che si sia lamentato un secondo Non uno che chiedeva di andare in bagno, di mangiare Portavano la schiscetta sotto il banco Ah sì? Sì sì, mangiavano, portavano le cose E si divertivano di brutto E questo traspare, viene fuori E questo è impagabile Perché è proprio una festa È come se tu andassi a una festa Ma si vede quello Si vede quello Poi c'è qualcosa che è proprio nel potere della musica E del ballo Che come dici tu non lo puoi scrivere Però quando parte arriva quell'energia E quando ti hanno raccontato il programma Ti è piaciuto subito? Io ho avuto un'emozione Quando me l'hanno spiegato E poi ho visto il trailer della BBC Del format della BBC E ho avuto proprio tipo Sai quella sensazione Questo è un programma che mi piace Poi immediatamente mentalizzo Avevo il dubbio Perché dicevo Come facciamo noi A trovare Tecnici così bravi E nel Cioè pensare di avere in regia Un pannello di cento microfoni Tutti aperti Subito mi sono fatta queste domande Vero, vero Da un punto di vista tecnico E dobbiamo ringraziare veramente Tutti i ragazzi dell'audio Eccetera Perché Cenci ha fatto un miracolo Roberto Cenci Che è il regista Facendo tutti questi stacchi Captando tutti i commenti Io non ho mai visto una roba del genere C'è da dire che Cenci Molto complicato Che tra l'altro Stimiamo molto Ed è anche molto simpatico È musicista Bravo Esatto E quindi lui sulla musica veramente È una garanzia Pochi sanno che lui è Lui ha studiato il conservatorio Sì, sì E poi anche quando parli con dei maestri musicali Tipo Beppe Vessicchio Comunque gente Dicono tutti che lui è una garanzia Ed è vero Lo vedi dal cast Lo vedi dal cast dei ragazzi Dei concorrenti Ma anche dal muro Perché tutti quelli che sono lì Cantano tutti Sì, sì, sì Cioè sono delle forze della natura Che bello Anche Proce Senti Axe lo conoscevi già? Axe non l'ho mai incontrato In vent'anni di carriera Pazzesco Pazzesco Neanche per un aperitivo Ok Poi a un certo punto dico Chi potrebbe essere la nostra Jerry Halliwell No? Dico no ma Cioè Tra l'altro lui è con noi in agenzia E ho detto ma Axe è perfetto Perfetto perché Lui graffia anche un po' Cioè è quella È quella parte un po' Politicamente scorretta Che ci piace Perché sennò diventa noia Capito? E lui A parte la sua competenza Ma poi è proprio Un braffio Sì, sì A me quando ha detto Devo fare una roba in televisione E me l'ha raccontata Un po' Un po' che non la capivo E poi mi ha detto No ma devo fare un ruolo Che fa la Spice in America Ha detto Ma Axe è sicuro Cioè non mi sembrate proprio uguali Poi in realtà È andato molto bene Comunque lui è un altro di quelli Che si butta E si butta e si diverte Infatti lo proprio Io ho avuto Per me è stata una collaborazione Sarà anche in futuro Una collaborazione Preziosissima e virtuosissima Perché avere della gente Che non è complicata Che non se la mena Comunque è una competenza pazzesca E in più Ti dà anche molte idee No? Ti importa un sacco al programma Cioè è proprio oro Oro, oro, oro Stasera c'è la puntata eh ragazzi Fra pochissimo La terza di sei puntate Esatto Andiamo a cercare altri Cinque semifinalisti Noi ne cerchiamo venti Quindi ancora una puntata E poi si sfideranno Uno contro l'altro E poi ci saranno i duetti Con i grandi cantanti Ospiti che vengono a trovarci No no bellissimo Veramente bello Stasera stasera quindi Un programma musicale Come All Together Now Che va in onda fra poco Tra l'altro Va promosso in ambienti musicali Nelle radio Ma certamente Eh sì giusto Ma infatti io vengo a rompere Le scatole tutte le volte Perché a parte che Vivo qua davanti Lo sai Sì lo sappiamo E poi è un piacere E io adoro la musica Quindi Sai perché lo sappiamo Perché ogni tanto Usciamo dalla radio E vediamo i paparazzi Che fanno base al bar Esatto E allora diciamo Si vede che sta arrivando C'è la Unziger a casa Ma lo sai che è diventato Il loro ufficio Rimangono lì È base fissa Perché qualcosa succede sempre Tu sarai felicissima Unziger Come te la vivi questa cosa Ma ormai sei troppo abituata Ma sono amici ormai No ma io la vivo serenamente Perché dico sempre Che fa parte del gioco Altrimenti facevi un altro mestiere Se non vuoi stare Nell'occhio pubblico Eccetera E comunque Se vuoi la tua privacy O hai un momento In cui ti gira No? Stai a casa O no? Sì As simple as that Mi colpisce Mi ha sempre colpito molto La tua attitudine al lavoro No? Perché sei una super lavoratrice Noi ne vediamo una parte Poi c'è un'altra parte Che vedono i ragazzi tedeschi No? Cioè È pazzesco pensare a tutto quello che fai E tra tutto quello che fai Mentre eravamo fuori onda Mi hai detto che Con striscia la notizia Sei alla millesima e qualcosa Sì Abbiamo festeggiato Abbiamo festeggiato mille puntate Un po' di puntate fa E non potevo crederci neanch'io Mi sembra ieri Eh sono 14 anni eh Mille puntate 14 anni di striscia Ma va in onda senza pensarci Cioè nel senso Fa proprio un'estensione della tua giornata È vero È un'estensione della mia giornata di gioia Un'estensione di gioia Ma ho sempre l'attenzione E l'assenso di responsabilità Che tutto quello che tu dici Comunque lo vedono 6-7 milioni di persone Quindi attenzione C'è questa Non ci si rilassa mai Non ci si abitua mai Io Ogni volta che faccio qualcosa Non so te Comunque mi si allappa la lingua No Quello è un po' il segreto No Come dire Se perdi quella cosa lì Forse è finita qualcosa Anche secondo me Per me Pippo Baudo Che adesso tra un po' festeggia 60 anni di carriera E io lo conosco Lui ancora si emoziona Prima di andare sul palco Se non hai quella roba lì È finita Michelle c'è una differenza sostanziale Tra l'intrattenimento Nel nostro paese Quindi in Italia E in Germania per esempio Ma ci sono delle differenze culturali Però ormai siamo molto omologati Per quanto concerne i format Funziona un po' Tutto nella stessa maniera Però sai L'italiano è l'italiano Il tedesco è il tedescore Certo E allora per esempio L'attitudine al lavoro è diverso Loro una diretta La provi almeno 3-4 Hanno anche ancora molti soldi A disposizione per farlo Ma no Si prova almeno una settimana Fino allo sfinimento E infatti le dirette sono perfette Sono tedesche Sono tedesche Ma veramente È una roba incredibile È molto piacevole sotto questo aspetto Dall'altra parte A me piace portare un po' di italianità di là E dico ragazzi però Un po' di spontaneità Molliamo E di qua invece sarebbe ottimo Avere ogni tanto Anche un po' di quella tedescaggine Ma tu sei la stessa? Cioè il pubblico ti percepisce Nello stesso modo? No Anche perché luogo Cioè non so se hai mai letto Sulle lingue Tu lo sai che È scientificamente provato Che noi Chi parla più lingue Cambia personalità automaticamente Perché nel cervello La cultura della lingua Ti fa anche agire In una maniera diversa Quindi loro mi dicono Che quando parlo l'italiano Cambio completamente E chi mi sente parlare in tedesco Dice Madonna ma non sei te Perché divento un'altra persona In quale lingua pensi? Penso in italiano Quando sono in Italia Se vado due settimane in Germania Dopo un po' sogno anche in tedesco Perché è la prima lingua Che ho parlato Poi alla fine Comunque io adoro le lingue E le culture Cioè cambiare anche È una grande sfida Anche perché sono Sono proprio gli apposti Le due culture L'Italia e la Germania Anche a livello storico Certo Quindi loro Adorano C'è proprio anche quasi rivalità Tra i due paesi Infatti all'inizio Quando ho iniziato a lavorare In Germania Non accettavano Questa mia italianità Erano un po' infastiditi Da troppa gioia Escevano un po' meno E poi invece ho resistito Esiste un striscia la notizia In Germania? Sì sì The Daily Show Come in America C'è anche in Germania Ma è un format molto diverso Non hanno le veline per dire Perché quella è una cosa che ha Solo Antonio Ricci E loro ogni tanto me lo chiedono Ma che cosa fanno Quelle due ragazze Che ballano sul bancone? Io dico guarda Noi siamo una trasmissione di satira E quindi noi rappresentiamo Proprio il paese Ed è difficile fargli capire Che cosa sono le veline Non riescono a comprenderlo Quanto comunque ormai sono A parte che le nostre Sono delle ballerine pazzesche Ma che ormai fanno parte Della cultura Sì La velina è nel dizionario Ma certo Ma certo So che non me lo dirai mai Perché è giusto così Non bisogna fare preferenze Orta che paura No tu da presentatrice Hai quel muro lì Con tutti quei personaggi Quando Non dico se è in difficoltà Ma se ti devi appoggiare Io mi appoggio continuamente No lo vedo Ma ce n'è qualcuno Che sai che lì vai sicura Ax Ax è una garanzia totale A parte che Essendo il presidente del muro Comunque il capo Lui deve sempre avere O all'inizio o alla fine Comunque deve sempre avere la parola Perché il giudizio di Ax È il presidente È molto importante E poi comunque È sempre una garanzia Cioè ti dà sempre la battuta pronta Poi è bello Perché davvero Puoi divertirti A giocartela Su cento Capito Chi ha fatto il cast Comunque è stato molto bravo Molto Perché ne hai di personaggi Bizzarri Infatti bisognerebbe fare Almeno sei edizioni Perché Per conoscerli bene 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 Talento che ti è piaciuto molto Per esempio avete Qualcuno ha bocciato Queste tre ragazze Taglia extra large Che facevano le destre A me piacevano tantissimo Erano fortissime Le forze della natura Sì belle Ax me le ha bocciate invece Sì perché lui Lui ha i suoi gusti Tra l'altro La cosa pazzesca di questo muro È che tu lo sai Che se si alzano in cento Il concorrente va direttamente In finale Quello capita Da noi non è ancora capitato Sono cento Cento che hanno La stessa percezione Le dura È difficile È difficilissima Quindi ovviamente De gustibus Non disputando Mest Però Però Secondo me Dimmelo tu Io non me ne intendo come te Il livello è alto Sì Sono tutti molto bravi Ci sono tante voci pazzesche Sì Qualcuna veramente incredibile Sì E poi Vabbè insomma Vedremo come va avanti Mi dicevi una cosa bella Prima che nelle ultime puntate Credo Ci saranno i duetti con i cantanti Sì Noi abbiamo adesso Cerchiamo i nostri semifinalisti Quando sono 20 si sfideranno Uno con l'altro Poi tra l'altro succedono anche Delle cose molto belle Perché si sfideranno E a loro insaputa Avranno Dovranno cantare Delle canzoni Di personaggi Della musica Di cantanti Che vengono proprio a trovarli E poi stanno con noi nel muro Quindi molto molto bello Con l'effetto emotivo Un po' complicato Per spiegarci È difficile cantare Su di noi Che è un pezzo facile Da cantare tra amici Ma se c'è Pupo Diventa più difficile È certo Molto molto più difficile Come concetto Mi fa ridere che hai preso Pupo Salutiamo Pupo Gli vogliamo un bene pazzesco Fa troppo ridere lui Io ho il piacere Ogni tanto Di finirci a cena insieme Sono le serate più belle Del mio anno Ma veramente Ma è troppo Lui racconta le barzellette Più divertenti del mondo E anche a livello di aneddoti È abbastanza un campione È vero Michelle Buon programma Fra poco Fra poco C'è All Together Now Un bacio Michelle Ciao Grazie a te